Presidente, a distanza di pochi giorni un nuovo protocollo d'intesa, questa volta con l'Università degli Studi di Teramo. Sì, è un nuovo modo di interpretare e di aprirci al mondo della internazionalizzazione. All'interno dell'iniziativa Adriatico Ionico, la Regione Abruzzo ha inteso di stipulare un protocollo d'intesa con l'Università di Teramo che già collabora con tale iniziativa. Assieme al Rettore dell'Università e al Professor Paolo Bordoni, oggi stipuliamo e gettiamo le basi per quella collaborazione, per quella sinergia che deve rendere forte la Regione Abruzzo per creare anche il suo strato culturale e professionale per poterci aprire al mondo della internazionalizzazione. Oggi parliamo di internazionalizzazione dei paesi Adriatico Ionici, tra qualche giorno ci sarà un importante meeting sul Mediterraneo. La Regione Abruzzo qualche settimana fa ha stipulato un protocollo con le Camere di Commercio d'America. Questo sa significare la grande attenzione che questo territorio ha verso l'esportazione e anche verso l'importazione, non solo di imprese ma anche di conoscenze, di innovazione e di ricerca tecnologica.